Un processo di miglioramento continuo per fare in maniera che le tutele, i diritti delle persone con difficoltà, con delle disabilità, siano sempre maggiori, perlomeno nel nostro aeroporto. Lo Scalo di Capodichino è il primo aeroporto italiano ad aver stipulato un accordo con la federazione che raggruppa tutte le associazioni rappresentative delle differenti disabilità allo scopo di creare standard sempre più elevati nell'attenzione ai diritti e ai servizi per i passeggeri con disabilità. Si tratta di un impegno da parte del gestore, GESAC, a realizzare un vero e proprio programma operativo attraverso la progettazione di servizi dedicati per rendere l'infrastruttura aeroportuale sempre più accogliente. Il vero valore aggiunto è quello di ogni anno definire dei programmi congiunti che poi verifichiamo insieme. In termini di infrastrutture questo ci permette in fase di progettazione delle infrastrutture di verificare i punti di vista anche delle persone a ridotta mobilità. È un approccio innovativo ed è stato definito anche un collaudo civico all'obiettivo di diffondersi non solo in ambito aeroportuale ma presso le iniziative di progettazione di tutti i servizi alla persona come mobilità, salute e distruzione. È l'unico aeroporto italiano con il quale c'è una collaborazione così ampia e così estesa e che dura nel tempo. La qualifica del servizio, dell'accoglienza e dell'opportunità quindi di rendere al viaggiatore con disabilità possibile tutto è un presupposto sul quale si basa questa collaborazione ed è questo quello che noi siamo a testimoniare e a ricercare in ogni minuto di questa collaborazione.